Quando Telecom Italia ha cominciato a capire che la vendita dei servizi precedenti non andava più avanti, si hanno inventato o hanno accettato l'invenzione di qualche poeta che ha parlato di cloud computing. Cloud computing non c'è cloud, forse c'è computing, però l'immagine parlava e ha creato un'industria, big data e l'industria del momento. Ne parliamo di più, smart city, chi non ne ha parlato se di parlare di smart city, no? 3D printer, abbiamo sentito una bellissima presentazione su 3D printer e anche questo è un buzzword che la gente usa. Non vuol dire che non devono farlo, però vuol dire che c'è una concentrazione di interesse su queste parti del nostro linguaggio comune. Internet of Things è uno di questi buzzword che adesso sta prendendo un vero volo e è assolutamente pertinente di nuovo per il business, perché il business è Internet of Things, per data analytics, per l'uso dei big data, per la contestualizzazione. Ne abbiamo sentito già un sacco oggi sulla domanda, è assolutamente una spinta pertinente per Internet. Internet of People è già un buzzword. Forse non so se gli organizzatori lo sappiano, però ci sono libri su Internet of People, ci sono siti web su Internet of People, c'è tutta una marea di un'industria su questo buzzword. Non è niente di male, questo è l'Internet delle cose che dà la moltiplicità fenomenale delle varie cose del mondo dell'energia, della costruzione, della casa, della salute, dell'industria, del trasporto. Tutte queste cose in varietà sono cose adesso disponibili grazie a quest'Internet delle cose. L'articolo che vi raccomando veramente di leggere parla del fatto che la gente non capiscono il pericolo che vivono e che non conoscono, non si sono cose. La risposta a questo è la narcosi di Narciso inventata da McLuhan per dire che noi siamo assolutamente innamorati delle nostre macchine e più di tutto dei nostri telefonini e dei nostri computer. Come al passato era innamorato del sistema di trasporto, adesso mettiamo il nostro cuore. Infatti, adesso non ricordo più il suo nome, ha parlato del computer come essendo un amico, una presenza nella nostra vita. Abbiamo la narcosi di Narciso, certamente. Abbiamo anche questa cosa, la paura, no, che è sempre più grande, l'ansia che viene a partire dal fatto che siamo trasciati, trasciabili, e stiamo sviluppando, ciascuno di noi, o noi, no, altre persone stanno sviluppando per noi un inconscio digitale. Che vuol dire l'inconscio digitale? È tutto che si sa solo di ciascuno di noi, ma che noi non sappiamo. Che viene di tutti i profili, che viene di tutti i siti che abbiamo vissuto, che viene di tutte le cose che abbiamo comprato, che viene di uno stato di salute, che viene di tutta la personalizzazione di che abbiamo sentito parlare oggi, e assolutamente a buon senso. Però è per questo che vale la pena di rivedere la cosa sul piano psicostorico. Psicostorico. Siamo a sviluppare un altro tipo umano e certamente un altro tipo di inconscio che ha un'influenza sulla nostra vita assolutamente così grande di quello di Freud, o quello di Jung. È un inconscio che sistema sempre di più la nostra personalizzazione, ma la distribuisce anche fuori. Vuol dire che tutte queste fonti di informazione che sono disponibili a qualcuno che sa fare un po' di ricerca, non neanche di essere hacker, non prendo il tempo di dire tutto, però espressione di me, d'Italia, reputation, che compro, tutto questo si mette insieme, tutto questo, 64 fonti di informazione su ciascuno di noi come consumatori ordinari di una città come Milano o come Torino. Vuol dire una fonte di informazione che non lo sappiamo questo, ma che è veramente definitiva. il problema è questo. Big data, il grande inquisitore che ti fa la domanda senza torturare il corpo, o Minority Report, che ricordate Minority Report, adesso il futuro potrebbe… adesso si tratta di predictive analysis, non solo di data analysis nel senso che… predictive analysis vuol dire, andiamo verso questo, allora ho questa storia che… un po' un baraseletta, questo ragazzo lo farà, vuol dire che possiamo già vedere il criminale prima che ha avuto, diciamo, la possibilità di fare qualche sia. secondo me, penso che… penso che… se c'è qualcosa che volevo far pensare, oltre delle varie idee che voglio dire, il fatto che dobbiamo abituarci a riconoscere il fatto che abbiamo tre spazi principali da occupare. questo, bello, questo, dipende di ciascuno di noi, e questo, questa rete, questo spazio virtuale, sono spazi fondamentali, hanno qualità, proprietà, sono mutualmente occupabili, però psicologicamente crea situazioni totalmente diverse che quello che abbiamo avuto fino adesso. Vediamo… non possiamo… non sono connesso, non posso farvi vedere questo. Questo è un modo di abitare lo spazio con la rete, un modo assolutamente nuovo di relazionare in tempo reale con tutte le persone che sono presenti nella città di Manhattan e con una circolazione, una visualizzazione anche delle relazioni che è assolutamente fenomenale. Abitare la mente con la rete, essere completamente, diciamo, occupato mentalmente di questi prodotti di un schermo, abbiamo sentito parlare di schermo anche oggi, che riempiegano un po', che prendono posto del nostro pensiero e che fanno che sul schermo emigrano tutte le nostre facoltà interne. Rovesciamento del pubblico e del privato essendo uno dei conseguenzi che stiamo a vedere adesso nelle condizioni attuali della nostra relazione con la rete. Parlo sempre dal punto di vista della persona, che succede con la persona a partire dal momento che è connessa con altre persone via la rete e altre cose. Questo rovesciamento pubblico-privato è stato veramente un problema civilizionale, non semplicemente un momento. È una cosa... La nostra indipendenza, la nostra vita privata, quello che pensiamo è da noi, è stata inventata nel nostro rapporto con la lettura e la scrittura. e oggi, perché leggere vuol dire prendere potere sul linguaggio, un potere privato sul linguaggio. Ma questo potere privato sul linguaggio non l'abbiamo più. Quando si diceva che l'internet libera la vita, sì, sì, è vero, l'ha liberata meravigliosa, uno dei primi a dire che era una cosa fenomenale, lo è. Però porta con sé un sacco di problemi. E tra i problemi è questa perdita graduale, insensibile, della nostra identità privata e, più di tutto, della proprietà delle nostre pensieri. Ricordatevi che io dico le cose che voglio dire e non dico quello che non voglio dire. Basta, sono le mie. Penso che sono le mie. Sì, oralmente. No problem. Ma sulla rete? Mai. Tutte le cose che facciamo sulla rete sono proprietà del mondo intero. Allora, questo fa, diciamo, creare una domanda su che pensare. Esempio. Il ritorno della cultura della vergogna. Ricordatevi che la vergogna era la qualità della responsabilità di una persona nella società tribale, orale. La mia responsabilità è verso il padre, verso la famiglia, verso la tribù, verso l'altro. Appena incomincio di leggere e di prendere potere sul linguaggio interiorizzo tutto questo e non è più vergogna. La mia responsabilità è verso di me. E se dovesse di me il mio destino è la mia responsabilità e sono colpevole. Di nuovo Freud ci ha tirato la colpa della nostra identità. Oggi tutto questo fa che chi conta è il Reputation Capital per voi, per noi, per il business, per qualche cosa che succede. Allora la domanda è sempre cattivi di Big Data? Non sempre. Questo mi piace molto. Questo è un ritratto della sensibilità americana la sera prima del Capodanno o durante il Capodanno. Sono tutti i tweet che indicano precisamente verso il mio pensiero e verso l'altro perché al Capodanno si fa la risoluzione di come sarò l'anno prossimo. e allora tutti quelli in rosa sono quelli che sono orientati verso l'altro. È una collezione Big Data, Data Analytics prende tutti i tweet simultaneamente analizza la quantità e fa tutta l'analisi statistica che si può fare. Allora quello che sono in blu invece sarò io farò più sport e sarò più così. No, verso di sé. E allora, evidentemente, il verde per gli americani è il denaro. La cosa che volevo dire la trovo carina questa perché infatti le statistiche globale o nazionale o sociale sono infinitamente più raffinati e possono dare la pittura diciamo la fotografia di un'emozione a questo momento collettivo. Però anche un altro beneficio un beneficio la trasparenza. se siamo tutti tracciati se tutto si può sapere su di noi siamo nudi se siamo nudi come comportarci? Vero? Siamo nudi. Già. Ma continuiamo a pensare che come Adam e Eve i vestiti bastano. No, infatti no. Non c'è un vestito che ti aiuta in questa nudità. Non c'è un vestito. Allora i Panama Papers Wikileaks vedete? La storia è così. Sì. Se la racconta su di Shantunni che dice che siamo trasparenti che è un problema posso anche pensare che evolve questo tipo di idea ma fondamentalmente la società sta tornando trasparente. E lo sarà sempre di più. Wikileaks è stato un punto di partenza. No? Però adesso siamo arrivati ai Panama Papers vuol dire che la gente che fino adesso viveva nel nascosto tranquillo no? No. Assolutamente no. adesso tutto si può sapere e tutto si può sapere sempre di più. Questo è una... Diciamo questo è piuttosto positivo perché posso pregare che la metà del prodotto nazionale no, del denaro disponibile per i servizi pubblichi è rovinata dal sparire di queste evasioni fiscali. E beh, vediamo che la giustizia sociale sarà più forte nel futuro. Parliamo delle cose delle persone. Altro beneficio dell'Internet delle cose perché infatti questa è la stessa mappa dell'altro salpe che porta questa volta su diverse cose che concernono le persone individuali a partire dei wearables di queste cose che si portano che studiano il tuo corpo possono avere un'infinità di informazione che viene il tipo di personalizzazione da che abbiamo sentito parlare molto bene oggi perché evidentemente stiamo arrivando a una come dire una conoscenza di ciascun individuo che è molto forte il quantified self è la parola che dicono per l'uso dei big data per sapere che sono i vari aspetti delle condizioni del tuo corpo secondo un studio su un termine più o meno lungo. La cosa che può fare e per sé questo ricordo Marilyn Levy che ha parlato brillantemente di questo centro che il laboratorio che ha creato per me usare la stampante 3D già si sa che si può fare tessuti non biologici però si può fare anche molecole che sono precisamente costruite per rispondere a questo cancro che è assolutamente unico nel mondo. Questo è un futuro fenomenale che viene dall'internet delle cose che veramente sono per le persone. e concludo su questo è la cosa che dobbiamo pensare che Internet Internet of Things è solo uno. Tutte le forme di connessione che facciamo su internet creano un nuovo tipo di corpo sociale e anche un nuovo tipo di individuale. È un sistema limbico. sapete che il sistema limbico è quello che porta le emozioni è quello che fisicamente fa crescere il sentimento di paura di amore di desiderio e che porta dall'emozione all'azione ogni tanto. Il sistema limbico oggi è veramente questo sistema di social media e varie modi che rifanno la mappa del mondo e creano situazioni di connessione che sono totalmente diverse del passato. Allora questa è l'ultima slide non è molto bella però volevo semplicemente dire che uno dei aspetti più strani della rivoluzione digitale della condizione di Internet of Things e tutto il resto è il fatto che è basata sull'elettricità e anche il nostro corpo è basato sull'elettricità e trasporti tutta la segnalizzazione della vita è fondata su movimenti elettrici dentro il corpo. Dentro e fuori del corpo c'è questa connessione è sempre una sensazione più intima. Per esempio adesso si può pensare con un casco e vedere l'effetto del suo pensiero su un schermo. Si può pagare la macchina per farlo per 100 euro online. L'intimità del nostro trasporto personale con il resto è assolutamente crescente. Allora se si pensa come diceva McLuhan che abbiamo esternalizzato il nostro sistema nervoso centrale e l'abbiamo globalizzato la domanda è un po' paurosa un po' sana ma su di che per esempio il bellissimo discorso del relatore di Terramadre sarebbe certamente d'accordo è possibile che una volta che perché per assicurare la nostra sicurità cominci un movimento di diciamo riparabilità talmente forte che la connessione tra l'eliminazione dei pericoli l'eliminazione dei disagi l'eliminazione delle cose delle inegualanze che si può immaginare che una possibilità di maturazione di Internet of Things evidentemente di people sarà precisamente un'interconnessione talmente intima termino su questa citazione anche di McLuhan in the age of instant information we wear all mankind as our skin nell'era dell'informazione indossiamo l'umanità intera come l'estensione della nostra pelle grazie grazie